ciao a tutti e bentornati sul canale eccoci con la recensione del mercoledì e oggi torneremo a parlare di avengers infatti un grande assente di queste recensioni a tema marvel è sicuramente ultron quindi oggi rimediamo subito partendo dalla scatola come sempre troviamo il logo marvel indicato qui qui c'è il logo di avengers e precisamente stiamo parlando di age of ultron per chi si fosse perso le precedenti recensioni e ultra nel numero 72 è un edizione standard e qui troviamo parte dell'artwork e come vedete ci anticipa già come era chiaramente immaginabile che questo pop ha una quantità di dettagli veramente veramente pazzesca sul lato come sempre troviamo l'artwork per intero e possiamo vedere davvero quanti dettagli e quanti parti ci sono in questo pop lo sfondo è come quello che abbiamo visto nelle altre scatole quindi sempre il logo di avenger però questa volta su queste tonalità del grigio che chiaramente bene si intonano con il nostro ultron sul retro della scatola troviamo gli altri personaggi ovvero iron man mark 43 capitano america hulk thor occhi di falco che è l'unico che mi manca di questa serie visione che abbiamo anche già guardato insieme e l'hulkbuster che vi ricordo è un pop praticamente non comprabile nei negozi perché è stato prodotto in esclusiva per una scatola della collector corps un servizio in abbonamento che fa queste scatole a tema ora possiamo procedere con l'unboxing per addentrarci in questo tripudio di dettagli che sicuramente questo pop avrà ecco qui il nostro ultron fuori dalla scatola e come potete vedere è veramente meraviglioso ora al di là che possa piacere o non piacere il personaggio secondo me questo pop è spettacolare quindi cominciamo subito dalla parte superiore quindi dalla testa come tutti i pop marvel è un bubble head e questa cosa è fantastica sulla parte davanti vediamo che gli occhietti da pop non sono neri ma non sono solamente colorati di rosso il rosso è proprio metallizzato come tutto il resto praticamente dei dettagli di questo colore e questo è veramente un dettaglio di quelli ben studiati perché gli dà ancora più profondità e lo rende ancora un po più speciale sempre dalla parte frontale poi partono tutti i dettagli in rosso che sono comunque scolpiti e poi dipinti e troviamo anche tutta la parte frontale fino ad arrivare a quello che costituisce la bocca qui sulla parte centrale c'è questo incavo fatto molto bene le parti laterali proprio come l'ultron che abbiamo visto nel film sono composte da vari componenti e quindi questa parte soprattutto ha una tridimensionalità pazzesca e ovviamente il color metallizzato non fa altro che accentuare questo aspetto passando sulla parte inferiore vediamo che il livello di dettaglio raggiunto da questo pop è veramente pazzesco credo che siano veramente pochi i pop che arrivino a questa soglia di cura e di dettaglio come vedete tutte le placche qui sul torace tutte le parti scolpite e poi dipinte sono fatte veramente bene hanno tutti i loro piani e si distinguono perfettamente uno dall'altro anche le braccia e le mani sono state molto curate e le mani sono chiuse a pugno passando poi sulle gambe come potete vedere partendo dalle cosce passando alle ginocchia e concludendo sui piedi anche qui sono stati fatti tutti i particolari e qui ragazzi è tutto un lavoro di scultura perché la pittura qui è solamente argentata quindi non c'è nessun altro mezzo per dargli profondità qui sul retro vediamo che c'è tutto il resto dei particolari sul retro della testa ma la vera sorpresa arriva qui sulla schiena perché per quanto sia stilizzato come stile possiamo distinguere tranquillamente tutte le placche della colonna vertebrale qui sulle scapole ci sono tutte le parti scolpite benissimo e con i dettagli in rosso e troviamo anche tutti i dettagli da parte dietro delle gambe quindi ragazzi questo è il pop di ultron da avengers age of ultron e devo dire che sicuramente è uno dei pop più belli che io ho nella mia collezione perché come avete visto se arriva una soglia di dettaglio veramente stupenda è un pop che vi consiglio tantissimo anche perché essendo il film di recente uscita e quindi anche i pop si trova tranquillamente senza troppi problemi io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo domenica con il prossimo pop ciao